Questa finale dei 3000 siepi vediamo che l'andatura è subito molto molto veloce Vediamo adesso Panetta che ha preso iniziativa e speriamo che sappia da solo incrementarla fino a stroncare gli avversari Perché per adesso... 2.43 non è male però Panetta al comando, Van Dijk in seconda posizione Panetta ormai ha vinto, ha vinto, non c'è più nulla da fare Melzer è battuto, non è riuscito il colpo di Scottarda Medaglia loro per Panetta Allora amici di Trope Run TV, siamo qua con il grande Frank Panetta Per la presentazione del suo libro Corro da solo, qua ospiti da 10 gradi nord Cedo la parola all'amico Silvio Lorenzi che direttamente da Personal Test di Radio 24 Lui ha detto che ha letto tutto il libro, secondo me non è vero Però ha prodotto due domandine che ha detto che ha due dubbi da chiarire rispetto al libro Quindi vi cedo, interroghiamo che secondo me non è proprio vero Però secondo me, vi cedo subito la parola perché sicuramente ne sa più di me Ciao Francesco Innanzitutto come nasce l'idea di questo libro? L'idea nasce da... è difficile, non c'è una motivazione principale anche se poi in realtà il libro spinge verso una direzione Direi un giorno continuando a guardare perché ovviamente io questo mondo lo guardo da molto distante anche se me ne sono distaccato il passato ma lo guardo comunque ed è un mondo che ha subito dei cambiamenti importanti e altri mi piacciono altri non mi piacciono per niente perché la corsa credo sia qualcosa di diverso da quello che molte volte noi vediamo proposto quindi nasce da quel punto, da quell'obiettivo di dire voglio dire la mia voglio provare a dare un'interpretazione diversa a quello che poi sto guardando È un libro che racconta un po' la storia della tua vita non è un libro tecnico, non è un manuale sulla corsa è un libro che racconta dei belli aneddoti tra l'altro della tua vita insomma da professionista dal tuo arrivo diciamo a Milano fino alla medaglia Sì, allora Mi verrebbe da dire che è un milanese trapiantato ma la battuta non fa molto ridere però Tu la puoi dire Allora, sì è una biografia anche se non diciamo è una biografia di una porzione della mia vita sportiva e non ovviamente parlo degli anni in cui arrivo a Milano particolarmente perché sono degli anni che io ricordo con grande intensità con grande piacere perché non dimentico mai di essere calabrese ma non dimentico mai che questa oggi è la mia casa a Milano, poi Monza, quindi la Lombardia e come hai detto nel libro c'è anche un certo se vuoi malinconia per una Milano che non esiste più o almeno quella Milano non esiste più che a me piace quando arrivano quelle rare nebbie ormai io mi emoziono quindi parlo di quel periodo e come hai detto bene dentro non ci sono tabelle non ci sono indicazioni sportive perché il libro vuole essere tutt'altro racconti Milano anche attraverso la 90 alla 91 c'è un aneddoto molto bello che racconta gli anni in cui tu arrivi a Milano è proprio uno spaccato da città tu praticamente e anche dell'atletica in sé secondo me un approccio un po' più naturale per cui tu fai per andare a Renati alla Monta di Italia il 25 aprile insomma la pista atletica e raggiungi la piazza Napoli inseguendo la 91 di solito lo facevo quando tornavo perché poi era dalla parte della strada dove io tornavo indietro quindi arrivavo in piazza Le Brescia e lì si scatenava la battaglia ma questo perché poi alla fine la mia vita la mia vita è stata una vita di corsa è un modo molto banale ma poi in realtà così mi piaceva correre quindi io andavo ad allenarmi però poi non è che io spegniamo il cervello e quindi se tornavo a casa di corsa perché molte volte mi capitava a me era finita lì era finita quando entravo in casa e quindi tutto quello che mi stava intorno serviva a scatenare se vuoi una competizione è un racconto molto bello che poi ne racconto proprio un'atletica molto molto vera lontana magari ha un'attenzione spasmodica per un'alimentazione perfetta c'è un racconto tra l'altro di tu che mangi due pizza e bevi una birra poi ti ritrovi a competere in pista lei letta veramente ma insomma io sono figlio di quell'atletica di quello sport sono figlio di grande spensieretezza sicuramente di grande attenzione perché io ho fatto il professionista mi allenavo molta attenzione e quindi badava tutto quello che c'era da fare per raggiungere altri livelli questo però non teneva lontano non poteva prescindere dalla spensieretezza che io ci mettevo dentro e anche quelli che erano vicini a me quindi con quella voglia di allenarsi di stare sul campo ma poi una volta fuori dal campo vivere la vita in maniera assolutamente tranquilla naturale senza tante tante polie e poi c'è una una considerazione che mi viene da fare adesso noi ci troviamo qui in una serata in cui ci sono tante persone sono tanti polisti che fanno la maratona insomma ognuno con i suoi tempi insomma tutto il circolo tutto quello che c'è intorno la maratona è cresciuto negli anni anche a livello di numero però probabilmente c'è la sensazione c'è un po' un calo invece dal punto di vista di un'atletica professionistica o è solo una sensazione hai colto perfettamente il segno ma hai colto anche una delle motivazioni per cui io cerco di dire delle cose oggi sicuramente grazie ad alcuni personaggi ma uno in testa a Linus noi oggi possiamo dire che questo fenomeno è stato sdoganato è diventato uno sport figo se vuoi perché era impensabile 30 anni fa passare in via Dante in mutanda in canottiera e non essere tacciato di pazzia si, ti aspettavano in piazza Gordioso con la camicia bianca da nodare bravissimo bravissimo oggi invece tu ci passi lì perché sei un figo e questo è servito è servito moltissimo detto questo però poi la corsa non può essere ridotta soltanto a un happening bellissimo o al fatto che vogliamo tutti andare a New York o tutti vogliamo andare a fare la DJ 10 ma lo dico con grande rispetto perché la corsa non è soltanto quello e pensare che qualcuno si appassioni soltanto a quello ma questa è una responsabilità però tutta del nostro movimento una responsabilità della federazione che deve far sì che queste persone che si appassionino alla corsa si appassionino a 360 gradi della corsa perché la corsa esistono i 1500 gli 800 i 100 metri esistono tante variabili che sono assolutamente affascinanti questa è anche una delle motivazioni che mi ha spinto a scrivere e dire sì signori ok ci piace andare in montagna ma non ci fermiamo a guardare o il K2 o la montagna di San Siro lì in mezzo ci sono tante cose tante sfaccettature ma bisogna impararle bisogna che ci sia qualcuno che trasmette questo tipo di pensiero c'è un po' la percezione anche che magari negli anni 80 e 90 l'atletica si è riuscita in qualche modo a uscire anche dalla sua sfera diciamo dell'atletica stessa arrivato i tuoi successi arrivavano anche persone che non erano proprio affine a quello sport o che erano vicini a questo sport invece in questo momento magari arriva ci manca un po' insomma il personaggio che va oltre manca appunto come dici bene manca un trade union la mia generazione la generazione di mezzofondisti di quegli anni è arrivata ad essere quello perché siamo partiti dagli Arese siamo partiti dai Cingolo poi ci sono stati Fontanella Tenanzio Ortis Francofamo un po' di nero prima i Mei gli Antibo gli stessi Cova Gordin sono il mitico Scartezzini bravissimo sono tutti figli di una generazione precedente alla nostra che ha fatto sì che quella generazione diventasse ancora più forte perché noi mezzofondisti in grado di competere a livello europeo e mondiale eravamo anche negli anni 70 perché Marcello Fiasconaro faceva il record del mondo sugli 800 però probabilmente ancora anzi sicuramente non c'era un tessuto per cui poi abbiamo creato una nazionale vera e propria che è stata la nazionale del sottoscritto ma da lì in poi non c'è stato più nulla non c'è stato un lavoro non c'è stata trasmissione e siamo arrivati in questi anni in cui la corsa è diventata cento volte più popolare di un tempo e quindi dovrebbe produrre in realtà in teoria tante cose e invece non produce nulla tu ti parlavi sempre hai usato sempre il termine motivazione la vera motivazione che ho invitato stasera è perché sinceramente quando era luglio più o meno verso fine luglio ero in maniera improbabile in Bermuda in negozio come al solito e tu mi hai raccontato quasi emozionato dicendomi no però non devi ancora dirlo in giro che avevi realizzato il sogno di scrivere questo libro e quindi ho pensato di invitarlo sinceramente così sembra un po' Bruno Vespa però comunque ho pensato di invitarti qua in una serata che poi vedrai sarà assolutamente informale perché per me averci qua e per tutti noi è veramente onore averti qua va bene? grazie Paolo grazie 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 grazie